Buongiorno, benvenuti a questa lezione di Sistemi Informativi Aziendali in cui proseguiamo la nostra analisi di quello che è l'approccio di definizione dei requisiti basato sui casi d'uso. In particolare andiamo a trattare l'aspetto più di dettaglio dei casi d'uso che riguarda la narrativa dei casi d'uso. Vi ricordo che i diagrammi dei casi d'uso, utilizzando la notazione UML, sono utili per andare a definire quello che è una panoramica, la big picture, di cosa fa il sistema e di con chi interagisce. Non contiene i dettagli di come i singoli attori interagiscono con il sistema. Per avere quel dettaglio è necessario andare a dettagliare ulteriormente utilizzando quella che è la narrativa dei casi d'uso. Innanzitutto dobbiamo andare a capire qual è il livello di dettaglio che noi vogliamo andare a fornire. Possiamo avere un livello molto sintetico, che di solito viene chiamato brief, in cui il caso d'uso viene descritto con un paio di frasi. Oppure un livello intermedio, che può essere chiamato casual, in cui ho alcuni capoversi che mi permettono di andare a dare una sintesi dell'evoluzione, di come l'attore interagisce col sistema, oppure un caso più specifico, che è quello dettagliato, in cui normalmente vado ad utilizzare un template che mi dà una struttura con cui descrivere tutti i dettagli dell'evoluzione del caso d'uso. Per cui quello che noi andremo a utilizzare è un template che viene chiamato SWEED, si basa su un template definito da Alistair Coburn, che lui chiama Fully Dressed, e che definisce una serie di sezioni con cui andare a descrivere nel dettaglio un caso d'uso, con cui andare a narrare che cosa avviene in un caso d'uso. Quindi, quali sono i campi del template che utilizziamo per andare a descrivere la narrativa del caso d'uso? Beh, inizialmente il nome del caso d'uso, che è una sintesi ovviamente di che cosa avviene in quel caso d'uso. Se volete è la stessa etichetta che viene utilizzata nel diagramma dei casi d'uso per andare a descrivere il singolo caso d'uso, quindi la singola bolla del diagramma. Poi c'è una sezione di contesto. Allora, in generale, io ho sistemi informativi che possono essere molto complessi, posso avere diverse interfacce, ad esempio un dispositivo mobile, piuttosto che l'interfaccia web, posso avere dei sottosistemi, per cui è bene andare a localizzare il caso d'uso in uno di questi sottosistemi, per cui posso andare a descrivere una interazione che avviene tra l'utente e un'applicazione mobile, oppure tra l'utente e l'interfaccia web. Successivamente posso andare a definire quello che è il livello. Abbiamo parlato di tre livelli principali di dettaglio, il livello summary, quello user goal e quello subfunction. Noi utilizzeremo in questo corso per lo più il livello user goal, ma questo template è applicabile anche ai livelli summary e subfunction, volendo andare a descrivere i dettagli anche di questi. E poi arriva il punto di partenza, ovvero l'intenzione dell'attore principale nel contesto in cui si trova. E quindi devo andare a descrivere qual è l'obiettivo che il nostro attore vuole raggiungere con l'aiuto del sistema informativo. Ovviamente devo andare a descrivere anche chi è l'attore primario ed eventuali attori di supporto. Dopodiché posso andare a definire quelli che sono gli interessi dei vari stakeholder. Ovviamente l'interesse dell'attore primario l'abbiamo descritto prima, c'è una certa intenzione, ma è possibile che nel contesto di un caso d'uso diversi stakeholder abbiano interessi particolari. Per cui nel caso del prelievo al banco, ma ovviamente l'intenzione dell'attore è quello di prelevare del contante. E ovviamente un interesse di uno stakeholder, qual è la banca, ad esempio, che non sia possibile prelevare del contante che non corrisponde a somme presenti sul conto corrente. Quindi ho diversi aspetti che vanno a influenzare il caso d'uso e che poi dovranno essere presi in considerazione nella realizzazione dell'interazione e soprattutto essere un punto di riferimento nel momento in cui questo caso d'uso verrà realizzato in termini di codice e di software che viene sviluppato. Posso definire inoltre quelle che sono delle precondizioni, ovvero delle condizioni che devono esistere prima di poter effettivamente intraprendere il caso d'uso. Per cui, nel caso del prelievo del banco, una precondizione necessaria è che il nostro attore abbia un conto bancario da cui andare a prelevare i contanti. Ho poi una serie di garanzie che mi vengono date come attore o come stakeholder da parte del sistema, o meglio, che devono essere date dal sistema. Qui sto andando a definire i requisiti, quindi devo dire che il sistema mi deve garantire alcune cose. Per cui ho delle garanzie minime, che sono valide comunque, e dalla garanzia di successo, ovvero è garantito qualcosa se il caso d'uso va a buon fine e quindi sostanzialmente nulla va storto, non ci sono problemi. Posso eventualmente anche specificare un trigger, ovvero un evento che causa l'esecuzione del caso d'uso. Normalmente, nella maggioranza dei casi, ho un attore primario che inizia a utilizzare un sistema. Può succedere che in alcuni casi sia invece il sistema che in maniera proattiva va a sollecitare l'attore primario. Ecco, in questi casi io vado a specificare un trigger che è per l'appunto la condizione che scatena il sistema informativo nell'andare a coinvolgere l'attore nel caso d'uso. Ovviamente, se il caso d'uso è pensato in modo che l'attore inizi l'esecuzione, non ci sarà nessun trigger. Successivamente abbiamo la parte centrale del nostro caso d'uso, ovvero quello che si chiama il main success scenario, lo scenario principale di successo, che, come suggerisce il nome, è uno scenario, ovvero è una possibile realizzazione degli eventi, ovvero non mi dà una descrizione complessiva di tutto quello che può succedere, è un particolare scenario di esecuzione degli eventi. Qual è? È quello principale, diciamo, il caso ideale di interazione col sistema, ed è di successo, ovvero è una sequenza di interazioni tra l'attore e il sistema che mi portano a raggiungere l'obiettivo di partenza, quella intenzione che abbiamo descritto un attimo fa. Quindi vado a descrivere quali sono le interazioni che mi portano a raggiungere l'obiettivo. Ovviamente è un possibile scenario, io ne posso avere tanti alternativi. Qui vado a mettere quello principale, quello più importante. Ovviamente tutte le alternative in qualche modo dovranno essere descritte. Ecco, lo scopo della sezione successiva, quella che viene chiamata extension, è per l'appunto quello di andare a indicare possibili deviazioni rispetto allo scenario principale di successo. Nello scenario principale che cosa succede? Io vado a elencare in ordine numerato una serie di passi che avvengono tra l'attore e il sistema. Quindi alcuni passi saranno descrizioni di azioni svolte dall'attore verso il sistema, altri passi alternati saranno invece descrizioni di azioni svolte dal sistema nei confronti dell'attore. Quindi scambio di eventi e di informazioni. Quando vado a descrivere i singoli passi dello scenario principale di successo devo ricordarmi che ogni interazione è un qualcosa che viene fatto tra due entità, l'attore e il sistema. Quindi, ad esempio, devo andare a dire chi fa l'operazione e in che cosa consiste l'operazione. Per cui, ad esempio, il cliente inserisce l'indirizzo. Posso avere, oltre ad azioni molto semplici, soprattutto sul lato del sistema, azioni che vanno a fare delle verifiche. Ad esempio, vanno a proteggere quelli che sono gli interessi degli stakeholder. Quindi garantisco che chi non ha un conto corrente non possa accedere al sistema. Per cui il sistema convalida il PIN. Posso anche, sempre sul lato del sistema, andare a indicare qualcosa che va a modificare un certo stato interno. Ovviamente non conosco come è fatto lo stato interno, però concetti di alto livello, quali, ad esempio, il saldo di un conto corrente, quelli possono ovviamente essere menzionati. Normalmente, se ho una modifica di qualche dato, quel dato sarà descritto in qualche modo all'interno del modello informativo. Alcune indicazioni su come andare a descrivere questi passi. In generale devo utilizzare una grammatica molto semplice, soggetto, verbo, complemento oggetto, eventualmente una frase subordinata. Deve essere evidente chi ha la palla in quel momento, quindi è l'attore che fa qualcosa verso il sistema o il sistema che fa qualcosa verso l'attore. È sostanzialmente una specie di ping pong tra attore e sistema. Quindi un vincolo fondamentale è che i passi siano alternati. Quindi l'attore fa qualcosa e il sistema risponde. L'attore fa qualcos'altro e il sistema risponde. Quindi sempre alternati. Attore e sistema, attore e sistema. Il punto di vista con cui vado a descrivere quello che avviene è un punto di vista dall'alto. Quindi io sto osservando l'attore e il sistema che interagiscono tra di loro e descrivo che cosa avviene. Descrivo che cosa vedo. La transizione di informazioni dall'attore verso il sistema e del sistema verso l'attore. È ovvio che i passi dovrebbero in qualche modo evidenziare una qualche evoluzione di un processo che porta ad avvicinarsi a realizzare quello che è l'intenzione di partenza del nostro attore. Quindi l'obiettivo è raggiungere il goal del nostro attore. Un'altra raccomandazione è quella di andare a mostrare l'intenzione e non il movimento. Cosa significa? Io non voglio andare a descrivere nel dettaglio come è fatta l'interfaccia utente ad esempio del mio sistema informativo. A me interessa che la mia interfaccia utente permetta di inserire l'indirizzo, inserire il PIN, specificare una somma, eccetera. Come viene fatto nel dettaglio è un qualcosa che io non vado a descrivere in questa fase. Qui sto semplicemente andando a descrivere qual è l'interazione tra l'uno e l'altro. Nel dettaglio come avviene, ovvero quello che si chiama il movimento, io non lo voglio mettere, non voglio andare a mettere eccessivi vincoli su come avviene quell'interazione. A me interessa che avvenga, quindi ci sia uno scambio di informazioni, ma il dettaglio no. Quindi l'intenzione è io voglio inserire il mio indirizzo. Come lo faccio? Vado a selezionare un menu a tendina, faccio un click, due click, 50 click, uso riconoscimento facciale, quello che volete, è quello che qui viene inteso come movimento, cioè il dettaglio di come avviene l'interazione. Ecco, questa deve stare fuori dal caso d'uso. Ovviamente ogni passo dovrebbe avere un numero ragionabile di azioni, non posso andare a scrivere una sbrodolata lunghissima di tutte cose fatte. È ovvio che è possibile che magari dal lato sistema ci sia, non so, una verifica, un aggiornamento dei dati, una richiesta di informazioni al cliente, per cui può essere a volte utile andare a prendere uno dei punti numerati principali dello scenario principale di successo e andare a fare una serie di sotto-ballet, di sotto-elenchi puntati, che descrivono le due, tre azioni specifiche che vengono fatte. Però in realtà corrispondono a un unico passo, quindi il ruolo, diciamo, il turno è quello del sistema oppure dell'attore e fa due o tre attività che sono un tutt'uno. Ricordiamoci anche che il modo di scrivere le azioni deve riflettere per l'appunto il fatto che stiamo descrivendo uno scenario, ovvero una possibile evoluzione delle interazioni. Per cui andrò a scrivere il sistema convalida, ad esempio, i dati, non il sistema controlla a sé i dati, perché tutte le deviazioni rispetto allo scenario principale dovranno essere messe in qualche altro luogo, ovvero nella sezione successiva che abbiamo chiamato di estensioni. Quindi io vedo, osservando dall'esterno, un ipotetico scambio tra attore e sistema che il sistema convalida i risultati e quindi in pratica do per assunto un esito positivo. Ricordiamoci che è lo scenario principale di successo e quindi vado a immaginare che tutti i controlli abbiano un esito positivo. Poi ovviamente se il controllo avrà esito negativo avrò un'altra serie di eventi, di interazioni che andrò a descrivere separatamente nelle estensioni. esempio abbiamo Mary che vuole portare fuori vuole portare le sue figlie all'asilo mentre va al lavoro e guida fino a un bancomat fa scorrere la sua carta nel lettore entra e inserisce il pin e seleziona l'opzione fast cash quindi denaro veloce entra e inserisce il numero 35 dollari come importo e il bancomat restituisce una banconota da 20 e 3 da 5 più una ricevuta che mostra il saldo finale dopo il prelievo dei 35 dollari. Il bancomat resetta il suo schermo dopo ogni transazione di tipo fast cash così Mary può andare via tranquillamente senza doversi preoccupare che magari qualcuno possa andare a fare un prelievo mentre lei ha lasciato in custodito il il bancomat quindi l'obiettivo è andare a scrivere quello che è uno scenario principale di successo per quello che è descritto qui come una specie di aneddoto come resoconto come una storiella quindi questo può essere una descrizione di livello casual quindi ho un po' di descrizione di quello che avviene ma non ho una precisione nel dettaglio per cui a partire da questo posso andare a scrivere uno scenario principale del successo che è ad esempio questo quindi il cliente passa la carta bancomat nel lettore il bancomat legge l'identificatore il numero del conto e convalida con il computer principale quindi quello della banca il cliente inserisce il pin il bancomat lo convalida il cliente seleziona l'opzione denaro veloce e inserisce il contante la somma da prelevare come multiplo di 5 dollari a questo punto il bancomat notifica al sistema principale della banca la quantità di contante e ovviamente riceve una conferma eroga il contante e la ricevuta con il saldo finale e ovviamente registra la transazione quindi vedete che in questo caso specifico abbiamo tre attività sotto attività di questo passo una cosa importante che dobbiamo notare è che qui in pratica abbiamo cliente bancomat cliente bancomat cliente bancomat quindi abbiamo sostanzialmente un'alternanza tra i due attori coinvolti in questa interazione quando parliamo di alternative dobbiamo ricordarci che a partire da un certo goal io posso raggiungerlo tramite una serie di sottopassi o comunque raggiungimento di sotto obiettivi lo scenario principale di successo è quello che probabilmente è indicato da questa striscia più a sinistra in cui tutti i passi descritti nello scenario principale di successo hanno successo e quindi raggiungo facilmente il mio obiettivo ovviamente è possibile che io raggiunga il successo anche con qualche fallimento quindi se ho un fallimento in uno di questi passi posso comunque raggiungere successo perché magari ho un'opzione un'alternativa e ovviamente avrò tanti altri possibili sequenze di eventi dove i vari passi hanno dei fallimenti che invece mi portano a un fallimento complessivo del mio obiettivo l'obiettivo dell'ultima sezione è quella delle estensioni è quella per l'appunto di andare a descrivere tutte le varianti rispetto a quello che è lo scenario principale di successo che è questa striscia più a sinistra quindi quando devo andare a descrivere le estensioni che cosa faccio devo fare una certa una forma di riflessione cercando di analizzare tutte le possibilità che si possono verificare in alternativa allo scenario principale ovviamente posso avere quelli che sono dei degli scenari di successo alternativi quindi posso raggiungere il mio obiettivo in due modi diversi devo andare a considerare quando l'attore principale si comporta in maniera non corretta quindi non prevista fa qualche azione che non è prevista dal sistema in alcuni casi posso voler andare a descrivere quella che è l'esito nel caso in cui l'attore primario sia inattivo ovvero non dia risposta al sistema quindi ad esempio il sistema richiede qualche informazione e l'attore non risponde che vuol dire che chissà cosa è successo l'attore se n'è andato via è impegnato è caduta la connessione da un punto di vista del sistema informativo non c'è una risposta da parte dell'attore in alcuni casi questo può portare ad esempio a annullare automaticamente la transazione in altri casi il sistema può tranquillamente stare lì in attesa per un tempo indefinito finché l'attore si decide a fare qualcosa quindi in alcuni casi può aver senso andare a considerare questa eventualità in altri casi invece è un qualcosa che è irrilevante quando ho dei passi in cui il sistema fa una qualche validazione devo andare a considerare anche il caso negativo in cui la validazione non abbia successo e quindi che cosa succede se la validazione non ha successo ovvero se non succede quello che è descritto nello scenario principale del successo oltre a questo posso avere quelli che sono dei fallimenti interni ovviamente che io posso tranquillamente prevedere sempre nel caso del Bancomat cosa succede se la carta per stampare le ricevute è finita se l'inchiostro per stampare le ricevute è finita se i contanti sono finiti è ovvio che sono dei fallimenti nel senso che il Bancomat non posso raggiungere l'obiettivo finale del caso d'uso ovvero il prelievo però sono delle eventualità che io posso facilmente prevedere quindi devo andare a capire come soprattutto descrivere nel mio caso d'uso come si comporta il sistema in questi casi ovviamente posso anche avere altri eventi che sono non attesi o comunque fuori dalla norma per cui in questi casi in qualche modo dovrò dare la possibilità di rilevare che c'è qualcosa che non funziona ovviamente se è qualcosa di inatteso è difficile prevederlo però rilevare che ci sono condizioni anomale che ci sono degli errori magari di cui io non so esattamente la causa e quindi devo in qualche modo andare a prevedere un certo tipo di comportamento del mio sistema informativo oppure posso avere dei problemi di performance critici quindi ad esempio voglio avere una comunicazione ad esempio col sistema centrale della banca ma la banca non risponde entro dei tempi specifici ecco cosa faccio? una possibilità è annulo la transazione per cui tutte queste eventualità sono quelle che io dovrei andare a considerare quando dopo lo scenario principale di successo devo andare a definire quelle che sono le estensioni attenzione che quando vado a definire un'estensione è importante andare a specificare qual è la condizione che mi fa deviare dallo scenario principale di successo questa condizione deve essere una condizione che sia rilevabile in maniera automatica dal sistema informativo in modo che il sistema informativo possa decidere di non seguire lo scenario principale ma andare a fare qualcosa di diverso per cui ad esempio ho un timeout nell'inserimento del pin questo è corretto il sistema può rilevare che entro tot secondi non è stato inserito il pin e quindi decidere di comportarsi di conseguenza il cliente si dimentica il pin di nuovo è invece qualcosa che il sistema non può andare a rilevare quindi è bene andare a ricordarsi che noi stiamo specificando che cosa deve fare il nostro sistema informativo e di conseguenza dobbiamo andare a specificare condizioni che il sistema informativo è in grado di rilevare poi posso anche andare quando ho tante condizioni che mi portano allo stesso flusso di eventi alternativi andare a fondere più condizioni che sono equivalenti in termini di risposta del sistema ricordiamoci che quando vado a definire le estensioni devo sempre fare riferimento a uno dei punti dello scenario principale per cui normalmente quello che faccio è andare a mettere il numero del passo dello scenario principale seguito da una lettera a, b, c, d eccetera per cui 3a è una estensione riferita al passo 3 dello scenario principale ovviamente posso avere una serie di passi in conseguenza della variazione rispetto allo scenario principale per cui andrò a mettere 3a.1 indicando che quello è il primo passo dello scenario alternativo quando si verifica una certa condizione come vado a costruire un caso d'uso la sua narrativa allora normalmente il primo passo è un passo molto ampio che ha una scarsa precisione e man mano che vado avanti aggiungo dettagli quindi aumento quella che è la precisione inizio da quelli che sono gli attori e i loro obiettivi quindi in pratica dal diagramma dei casi d'uso dopodiché posso andare a descrivere quello che è lo scenario principale quindi vado eventualmente a descrivere un trigger se è il sistema che in maniera proattiva coinvolge l'attore oppure semplicemente lo scenario principale verifico che effettivamente quei passi mi portino a soddisfare a raggiungere l'obiettivo e soddisfare i vincoli degli stakeholder dopo di che posso andare a elencare quelli che sono le possibili condizioni di fallimento quindi quella lista che abbiamo visto prima di varie condizioni alternative ecco quello è la checklist che io vado ad utilizzare per andare a identificare tutte le condizioni di deviazione rispetto allo scenario principale una volta che ho elencato tutte le possibili deviazioni allora vado a occuparmi di descrivere come il sistema può andare a gestire queste deviazioni normalmente conviene prima elencare tutte le condizioni e poi andare a definire come il sistema si comporta in modo da non dimenticare nessuna di queste condizioni mentre mentre faccio l'operazione di dettaglio del comportamento attenzione alcuni avvertimenti i casi d'uso da solo da soli non possono esaurire tutti quelli che sono i requisiti ci sono tutta una serie di dettagli ad esempio aspetti non funzionali che non sono descritti facilmente dentro un caso d'uso inoltre la terminologia utilizzata all'interno di un caso d'uso spesso si appoggia a una serie di concetti che sono definiti all'interno di un glossario o di informazioni che sono descritte in un modello concettuale informativo concettuale un altro aspetto da tenere presente è che i casi d'uso non devono andare a includere dettagli relativi a quella che è l'interfaccia utente ricordiamoci che mostriamo l'intenzione e non il movimento poi è chiaro che una volta che ho definito il caso d'uso posso andare ad approfondire e andare a immaginare come può essere fatta un'interfaccia utente però il caso d'uso in sé non dovrebbe andare a definire nessun vincolo su quello che sarà la realizzazione dell'interfaccia effettiva del sistema direi che con questo abbiamo concluso quella che è la panoramica sulla seconda parte del metodo dei casi d'uso ovvero la narrativa quindi abbiamo visto che cos'è un caso d'uso abbiamo visto che il contesto generale lo definiamo tramite un diagramma dei casi d'uso dopodiché entriamo nel dettaglio e per ciascun caso d'uso andiamo a definire quella che è la narrativa la narrativa la andiamo a descrivere utilizzando questo approccio con un template ben definito in cui io vado a riempire i vari passi e i vari dettagli in modo da non dimenticare nulla qual è il vantaggio di utilizzare un approccio così metodico è che i casi d'uso sono tendenzialmente brevi essendo descritti utilizzando la stessa struttura sono relativamente facili da leggere ricordiamoci che il caso d'uso è uno strumento di comunicazione tra chi specifica i requisiti chi lo realizza ed eventualmente il committente e gli stakeholder che vogliono andare a verificare che la specifica dei requisiti data dai casi d'uso sia effettivamente consistente con quelle che sono le loro esigenze quindi è importante andare a capire come utilizzare i casi d'uso nella maniera più facile e consona possibile per trasmettere al meglio quelle che sono le informazioni che sono